Ciao vecchio! L'altra volta, l'ho detto mille volte di non chiamarmi vecchio perché mi fai gazzare, va bene? Non è l'età che conta, ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete? Ma perché? Tu chi sei? Che vuoi tu? Io sono nichilista! No, tu sei cassinista! Venerdì 16 febbraio 2018, ed era Squat, via Pianezza 115, Lucento Torino, Concerti hardcore punk benefit per Davide De Logu, anarchico sardo incarcerato. Suoneranno Plastination, Neil Punk da Torino, Nofu, hardcore da Roma con ispirazione all'educazione Sabao d'anni 90 e anni 0, Crepa, punk da Verona, Cattiva madre da Torino, In mancanza d'altro, Too Fast for Love's Waffle & Core dal Regno di Sardegna. Venerdì 16 febbraio 2018, Ed era Squat, via Pianezza 115, Lucento Torino, ore 22. Supporta il Giro Do It Yourself, Supporta l'assalto all'esistente, Supporta la musica d'evasione.